Siamo qua per esprimere tutta la nostra indignazione verso questa cosa fatta dalla giunta del sindaco Ballarè che sta facendo morire un servizio pubblico e sta facendo sì che l'azienda pezzo per pezzo continui a cadere. A partire dalla navetta verde e finendo da questa ultima cosa qui, il servizio festivo, che a nostro avviso è una cosa molto grave, sia da parte degli autisti, va contro gli autisti e va contro tutta l'utenza e tutti i cittadini che abitano a Novara e utilizzano questo trasporto in giornate dove non possono utilizzare altri mezzi. Certo, noi vorremmo preservare il servizio, vorremmo che loro investissero su questa azienda e su questo servizio perché Novara è una città importante e una provincia importante dove ha bisogno di questo servizio perché se loro venissero a vedere effettivamente sul campo come il servizio va, si potrebbero rendere conto che questo servizio serve e non è un servizio inutile che può essere tagliato così. Ci sono pochi fondi, questo è vero, però se l'unica soluzione è tagliare non si arriva da nessuna parte. Prima si deve investire, provare a vedere altre vie e poi dopo si può iniziare a ragionare in termini di taglio però se il taglio deve essere l'unica soluzione noi non ci stiamo. Il taglio che viene fatto sul servizio festivo comporterà sicuramente da parte dei lavoratori una grossa perdita economica sicuramente e una grossa perdita di meno giornate lavorative nel senso che ovviamente riposando solo la domenica sia non meno giornate lavorative, ma il problema grosso non è quello, il problema grosso è che la città come Navara ha bisogno di molto e di molto servizio per eventi particolari, mi riferisco alle domeniche ecologiche, mi riferisco a momenti particolari di svago che è stato creato sulla città e se i lavoratori devono riposare di domenica e soprattutto gli autisti che oggi non possono non riposare durante la settimana vuol dire che la domenica con i servizi non si possono fare. Quindi avremo un problema grosso di mobilità, un problema grosso di sicurezza, un problema grosso di soldi per i lavoratori e di disagio per tutti i cittadini. Io credo che questo sia il primo passo per un progetto che porterà alla lunga anche dei posti a rischio perché è impensabile che quello che hanno detto che dovrebbero farci rientrare in questo modo non entrerà sicuramente. Ci sarà sicuramente un calo di utenti sui mezzi perché indubbiamente se c'è meno servizio si disincentiva la gente a prendere i mezzi pubblici e sicuramente ci chiameranno, come già sappiamo, fra breve a discutere i posti di lavoro. In Italia diciamo che la storia si trascina da anni, in questa città, in questa regione soprattutto non si è mai investito sul trasporto pubblico locale, si è sempre fatta una politica esclusivamente conservatrice e attenta a certe lobby e mai su quello che è la sociale e quello che usa la gente. È impensabile avere delle velocità commerciali bassissime con dei costi altissimi e gente che ci mette più tempo con il mezzo pubblico che con il mezzo privato. Addirittura il centro storico è aperto ai privati e chiuso al pubblico, cioè c'è una politica completamente inversa. Questa giunta che ha tanto sbandierato in campagna elettorale un discorso di investimento e di rilancio della mobilità e quindi del trasporto pubblico, a oggi, a due anni del suo sussediamento, non abbiamo visto niente. Non abbiamo visto corsi preferenziali, non abbiamo visto parcheggi di intrescambio, non abbiamo visto nulla che possa veramente andare a incentivare il trasporto pubblico. E se questa è la soluzione o la presunta soluzione per risolvere i problemi, siamo distanti anni luce.